state solseggiando un caffè la tazzina vi scivola e cade a terra e si rompe in mille pezzi cosa classica che succede questo dimostra l'esistenza del tempo perché è molto improbabile che a un certo punto la tazzina ai mille pezzi si ricomponga e vi ritorni in mano succede soltanto se mandate la ripresa all'indietro certo con una cinepresa potete farlo con un video mandato all'indietro succede che vi ritorni in mano ma questa cosa dal punto di vista delle leggi della termodinamica la seconda legge termodinamica è impossibile perché l'entropia va sempre aumentare dal punto di vista generale ma in realtà in alcuni ambiti può diminuire ora questo è il discorso del tempo il tempo è sostanzialmente questo il fatto che si va sempre verso più il disordine e l'aumento dell'entropia e lo spargersi dell'energia più che del suo concentrarsi in un punto e lo spargersi ad esempio del calore quando noi radiamo il calore parte da una fonte si irradia questo è ciò che fa l'entropia e questo è quella che chiamiamo la freccia del tempo perché il tempo in questo senso ha una freccia ma a livello quantistico va detto che nell'equazione di Schrödinger non c'è il tempo e questo è un fatto molto interessante quindi il tempo esiste o non esiste attenzione partiamo dalle basi questa è una cosa che tutti dovrebbero sapere ma io la dico perché non siamo tanto sicuri non esiste un tempo assoluto esistono tempi tanti tempi diversi ognuno di noi in realtà vive in un tempo diverso io ad esempio spostandomi dalla pianura o dalla collina alla montagna succede che in montagna allontanandomi dalla massa terrestre il mio tempo scorrerà più velocemente se mi ravvicino invece andando in pianura alla massa terrestre che non è poi neanche tanto grande il tempo scorre leggermente in maniera più lenta questo è dovuto alla massa e anche alle leggi della relatività se fosse se la terra fosse un buco nero questa differenza sarebbe enorme mentre la terra essendo un piccolo colpo celeste è una differenza di pochi millisecondi in un secolo quindi quasi impercettibile se invece noi utilizziamo questo con degli erogici atomici mandando un erogio atomico a una velocità molto alta sopra un aereo alta velocità supersonici già lì qualche piccola variazione un pochettino più consistente si vede se noi andiamo nello spazio a una velocità di un decimo di quella della luce e torniamo anche lì qualche cosina in più però questo effetto si ha soprattutto se ci si avvicina alla velocità della luce e però lì ci sarebbe il problema dal punto di vista del nostro corpo non so se reggerebbe perché sostanzialmente avvicinandosi alla velocità della luce il corpo si trasformerebbe in un'onda e che non è proprio il massimo ma poi tra l'altro servirebbe un'energia infinita quindi non succederebbe mai va detta questa cosa diciamo si dovrebbe arrivare a un decimo della velocità della luce senza grandissimi disastri e questo un po' inciderebbe dal punto di vista del tempo oppure ci avviciniamo molto più semplicemente ad un buco nero che però per nostra fortuna è distante da noi e in quel caso stando lì intorno al buco nero e poi tornando indietro certamente rischieremo di trovare il nostro pianeta dopo secoli ma non solo perché ci sono voluti magari tanti anni di viaggio ma proprio perché il tempo vicino al buco nero è trascorso in maniera talmente lenta e noi per noi è stato un tempo più lento mentre il tempo della terra scorreva relativamente in maniera molto più rapida e quindi arrivate sulla terra e sono passati centinaia di anni questo è quello che è la legge della reattività riguardo al tempo questa è una cosa che ormai è dimostrata perché sono stati fatti gli esperimenti la sappiamo questa è la cosa facile, la parte facile, la parte difficile qual è? è capire se il tempo esiste effettivamente oppure non esiste perché già esistono molti tempi ma come vi dicevo a livello fisico il tempo esiste soltanto come una freccia del tempo di tipo termodinamico cioè esiste la legge termodinamica, la seconda legge termodinamica per cui il tempo che fa il tempo? il tempo scorre in una direzione soltanto per motivo dell'entropia altrimenti se non ci fosse una variazione di entropia il tempo sarebbe ciclico probabilmente quindi come ad esempio la terra gira intorno al sole se noi vediamo scorrere la terra intorno al sole se non ci sono sprechi di energia, rallentamenti vari, non trova altri colpi celesti intorno la terra gira in eterno intorno al sole quindi è come se qualcosa si ripetesse in un loop infinito senza modificazione sostanzialmente dell'entropia in realtà poi a livello più piccolo oppure laterale l'entropia poi cambia sempre, va sempre a aumentare ora io naturalmente ho chiesto all'intelligenza artificiale non solo, ho chiesto anche a persone in gamba il discorso del tempo, se esiste o non esiste alcuni dicono che tra l'altro è il nostro cervello che crea la percezione del tempo ma questo è una cosa un po' a mio parere speculativa perché il tempo è misurabile quindi perché dovrebbe essere una nostra impressione sì noi ci siamo evoluti per vedere il tempo ma il tempo esiste per via dell'entropia quindi è misurabile una sola direzione è che purtroppo non possiamo andare indietro nel tempo possiamo andare, cioè tecnicamente non è impossibile però se dovrebbe ridurre l'entropia in maniera incredibile perché noi dovremmo ridurre l'entropia ad esempio di tutto il nostro sistema Terra per tornare indietro nel tempo sulla Terra e questo è un pochettino complicato e diciamo, viene detto improbabile ecco così si dice si dice improbabile e il problema è risolto è molto molto improbabile mentre andare avanti è facilissimo basta avvicinarsi come dicevo a una grande massa oppure avvicinarsi alla velocità della luce e questo ci farà vivere il nostro tempo in maniera molto più lenta rispetto al tempo che scorre relativamente quello che scorre ad esempio sulla Terra torniamo e ci accoggiamo che è passato tanto tempo quindi possiamo viaggiare nel futuro? sì, possiamo viaggiare nel futuro non possiamo viaggiare nel passato in teoria come sapete Stephen Hawking essendo anche una persona di spirito aveva a un certo punto creato aveva fatto una festa per viaggiatori nel tempo e questo è curioso cioè lui aveva detto io faccio una festa per viaggiatori nel tempo lo sapranno solo coloro che avranno potuto sapere di questa notizia che è stata fatta questa festa nel futuro e quindi dal futuro torneranno indietro e verranno alla festa risultato la festa è andata deserta ovviamente però l'idea è questa che anche lui considerava molto improbabile che si sessero viaggiatori del tempo intesi nel passato mentre nel futuro è facile andare però non potrete mai andare a una festa è stata fatta nel passato ecco, questo è un po' il discorso quindi se dovessi dire il tempo non esiste è un po' sbagliato il tempo non esiste il tempo esiste però il problema è che intanto noi lo vediamo un tempo assoluto e non è assoluto questa è la prima cosa secondo si parla anche di spazio-tempo cioè un tessuto che dal punto di vista delle leggi di Einstein esiste lo spazio-tempo che però è stato un po' negato dalla meccanica quantistica che vive tutto su un suo mondo ma in realtà ricordiamoci il mondo quantistico è quello che è la base del mondo fenomenico che viviamo quindi qual è quello reale dei due? e dobbiamo dire che quello reale è il mondo quantistico nel mondo quantistico vorrebbe che il tempo effettivamente non esista perché non siamo in un fenomeno macroscopico in quello che vediamo e quindi può darsi che il tempo effettivamente a livello microscopico non esista e che quindi quello che noi vediamo sia il famoso spazio-tempo sia una costruzione di qualcosa dove il tempo non esiste quindi il tempo in fondo forse potrebbe non esistere ma effettivamente dal punto nostro di vista anche per vivere il tempo è fondamentale quindi il tempo esiste o non esiste io vi lascerei il dubbio ma visto che non mi amiamo a lasciare il dubbio vorrei sentire che dice grandemente l'intelligenza artificiale e mi dice questo i fisici non affermano che il tempo non esiste ma piuttosto che la nostra percezione intuitiva del tempo potrebbe essere limitata o non completamente accurata a livello fondamentale in fisica teorica specialmente nella teoria della relatività il tempo è considerato come una dimensione spaziale all'interno di uno spazio-tempo quadridimensionale quindi c'è anche il tempo voi sapete c'è una teoria quella di Maldacena se non sbaglio che prevede in realtà attenzione un universo olografico dove non esiste il tempo e non esiste una delle dimensioni spaziali quindi solo due dimensioni universo a 2D è piatto praticamente è famoso universo olografico e questo spiegherebbe tantissime cose però questa è una teoria speculativa è quella che io ovviamente accarezzo perché non perché mi piace ma perché mi è sembrato molto convincente quindi risolverebbe il problema del tempo che non esiste a livello sostanzialmente quantistico e che tra l'altro porterebbe una soluzione a tanti problemi perché vedere l'universo a due dimensioni mostrerebbe il fatto che l'universo è un ologramma e questo spiegherebbe un sacco di fenomeni metterebbe probabilmente insieme anche la meccanica quantistica e la fisica classica spiegherebbe perché l'equazione di Schrödinger non ha bisogno del tempo e spiegherebbe come una costruzione dovuta all'ologramma il fatto che esista una freccia del tempo praticamente è come se non vivessero in qualcosa che è artefatto costruito ma dal quale non riusciamo ad uscire e non riusciamo nemmeno a ragionare senza quei parametri per cui siamo stati costruiti è evidente quindi abbiamo appena appena alzato un velo che ci fa vedere sotto quello che c'è nella realtà vera che non è tanto la realtà quantistica ma il nostro universo olografico quell'universo olografico inconoscibile potrebbe davvero essere la risposta al fatto che il tempo non esiste perché probabilmente esso deriva dalla struttura di questo ologramma cosa ne pensate fatemi sapere come sempre nei commenti iscriviti al canale youtube chiocciola l'eremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video di questo Grazie a tutti.